Allora amore, a parte che oggi sono riccia e io non riesco proprio a vedermi, oggi corso preparto e Ambra ha descritto il parto, il travaglio, tutti i vari dettagli. Oggi è stato tosto. È stata dura, però la cosa bella di Ambra è che non è che racconta favole, racconta le cose come andranno. No, no, è vero, almeno siamo preparati, giusto. Siamo preparati, io ho una paura incredibile, tu sei pronto? Sì, sì, a parte un paio di scene che ho descritto, però... Però così almeno sei preparato. Giusto, giusto così, è giusto così. E per una volta, nipotini miei, facciamo il fit check con Andrea Zenga che ieri è andato al concerto di Avril Lavigne da solo, con gli occhiali da sole, super sportivo, senza loro salina a cannavò e si è stra divertito e questo era il suo look. Adesso ci guardiamo due secondi, questo è il concerto di ieri, c'erano anche Francesca Ferragni con Ricchi Nicoletti, concerto stra riuscito e chiudiamo con il nostro Andrea. Ciao! Ciao!